ormai dieci anni e mezzo novembre 2013 ho iniziato fate i vostri conti dieci anni e cinque mesi che bello il Volibert secondo me io lo dirò sempre ragazzi Volibert è esteticamente uno dei campioni più belli se non il più bello poi quando ulta diventa spettacolare Teemo Permablind eppure che figo che è mi hanno fatto fare un campione così immaginate c'è un campione del genere e poi c'è Malfight ecco qua i barboni che si mettono ai semafori sui viali a Bologna mia nonna si stava incazzando come una maiala buon salve a tutti e a lei maestro grazie Desmond bella brother grazie grazie mille ci abbiamo oh remake come piace a noi no ce l'ha fatta benissimo devo pensare anche alla build non serve ovviamente questa noi puntiamo a one shotare con la E e questo è il danno livello 1 si raccontami raccontami no no dimmi dimmi vuoi soffiare contro i me ti diverti a soffiare ti ripiace soffiare che soffia sto cazzo stronzo molto bene i danni di Lady Voliber a P sono spettacolari ragazzi allora pensiamo alla build ci potrebbe star bene andare tanto alla fine dobbiamo far danni con una spell quindi andremo di Ludens per quanto bruttino sia il nuovo Ludens comunque tocca farlo Storm Surge perché ovviamente siamo la tempesta quindi così si becca due fulmi mentre presente quando dici il fulmi non becca mai due volte nello stesso posto ecco con Voliber si che bello che proprio non se ne accorge c'è andata bene con Erlion Sol perché sto tizio qua sta apparentemente fermo immobile proprio non curante dissociato da quello che succede ci piace perfetto ma stai ma stai imparando come funziona il campione lo sta testando sta testando quello che fa vediamo se passa da qui ok no vabbè è spettacolare ragazzi è spettacolare hai lato per passare più velocemente Aurelion sta attenti quando ci stanno i fulmini eh niente morto di infarto il carretto come sempre ok ok morto di binio morto di tutto morto della morte andiamo di scarpette subito bella caffa come stai caro caffa grazie sub giftati e niente qualcosa ti dice che hai una richiesta dico bene dico bene signor caffa la nintendo switch grazie che è chris del sub con lo scaffo porca miseria che fulmine ragazzi che fulmine caffa is back è benissimo perché non se ne accorge comunque il fulmine di volibert non arriva subito quindi ci mette un po' a capire cosa sta succedendo poverino e questo è un abuso molto grosso ragazzi e questo è un abuso però siamo volibert possiamo farlo senza sentirci in colpa vedete io avevo avevo pensato a giocare renekton letality ma io l'ho detto che non è l'elo per giocare renekton letality questo ci voleva un bel volibert ci voleva un bel volibert ragazze sdong ma siccome lui non capisce cosa succede perché c'è vede che io me ne vado io sparisco sono un chilometro di distanza e poi boom perde un quarto di vita fermi forse ha capito qualcosa stunk grazie il dibellino tu sei gentilissimo consigliare gratis però come vedi c'è la promozione che ormai in realtà va avanti da diverse settimane che con 5 sub giftati scegli proprio il pick cioè non è che consigli lo scegli tu ormai sono fuori season coi pick quindi lo sceglierà per me il signor chioccio la panfilo scegli bene che se no ricky mi togli il vip ah così abbiamo una delega fermi che forse sium grazie caff e biz c'è fanfilo in chat scegli te allora c'è stata la delega tipo bellino e caff ha donato 5 sub poi vabbè qua c'è stato un caso particolare in cui ha delegato prima volta che capita durante la promozione ha delegato però di solito 5 sub e poi scegli comunque fanfilo scegli te a quanto pare scegli bene non ci deludere fa che sia giocabile ooooh porca miseria ragazzi che fulmini ma lui è fermo lei sta fermo immobile non capisce come subisce da ma ragazzi ma che danni sono ma comunque è devastante sta spell è veramente devastante sta spell metà vita eh ma voi non so se avete visto gli scaling che c'ha sta spell scala p scala con la vita c'ha danni base altissimi è fortissima lei di sto champion infatti io lo adoro ho giocato a p per questo motivo oh no sparito fanfilo ha scelto aspetta ecco qua benissimo stiamo esagerando chat mi sa di si mi sa che stiamo esagerando come questa impressione sapete occhio allora fanfilo cosa fammi leggere generale in giungla e ruba tutto nella mappa possibile batte record di 800 calma il record intanto è di 700 qualcosa comunque devo allora posso giocarlo si vediamo le pozze però sto pensando se mi conviene in giungla secondo me non conviene in giungla sai abbiamo scoperto abbiamo scoperto fanfilo che la lane migliore dove giocarlo è mid lane perché così da mid puoi andare essendo che la wave è più corta puoi andare a rubare anche questo ha malissimo puoi andare a rubare anche nelle altre lane quindi se vuoi te lo gioco mid cioè però se vuoi che te lo gioco giungla va bene però giungla non penso di riuscire a fare nessun record ha iniziato a doggiare comunque aspetti che ha iniziato a capire come funziona ultime parole famose ultime parole famose ma in realtà no sai fanfilo non fai fatica a rubare la giungla nemica è che se però c'è a dire che da mid lane da laner puoi rubare la giungla da jungler fai fatica a rubare cioè la ruby però non ti dà soldi capito ok dei bei cazzottoni che fulmini e ora andiamo a prendere qualcosa per far più danno ragazzi no no aspettate abbiamo un po' esagerato chat che dite abbiamo un po' esagerato penso di sì ho come l'impressione di sì però mi servono le stack di me già e lo faccio solo per questo e è solo l'inizio questo perché adesso adesso ragazzi ci si mette a piangere comunque guardiamo gli scaling di lei allora il fulmine di voliver ha 200 danni base più l'80% della p più il 15% della vita del nemico della vita massima oltretutto questi due buchi dove siamo presi un filone cose dentro grazie reagan 85 grazie mille carissimo lei è un eroe eroico grazie mille go fuck yourself piove ah doggiato mi sa con l'iel sapete minchia guardate che danni fanno che danni fa la mia passiva non ti sembri no assolutamente no khalig cosa è stato ha sentito qualcosa occhio ma c'è un bug in giro per la mappa subisco danni a caso occhio mamma mia calamità naturali proprio devono stare molto molto attenti questi ragazzi no no è più divertente così dai vari è troppo facile ok vediamo se le ingaggiano ops ho beccato qualcuno what the fuck ok grazie kafa grazie mille caro molto molto gentile grazie mille anche a martinio come stai bello mio grazie è un bel fulmine al nostro amico qui maledizione ha flashato se no sto fulmine mi faceva un bel po' male occhio minchia ma che bello ma che bello è sto pick giocato contro ovviamente gente scarsa 24 stack oh oh ha piovuto lei non ci interessa dobbiamo fulminare qualcuno c'è qualcuno qui da essere fulminato mi sa che dobbiamo fulminare lei tuk è il mio amico occhio oh qualcuno l'ha gold resettato ma 300 gold grande chiunque tu stesse un eroe grande 300 gold allora ora andiamo di di Rabadon perché cioè vabbè perché sì ragazzi ciao nova buonasera a volte spunti oh 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 minchia che abuso ragazzi grazie ragazzi gentilissimi a me no è semplicemente un po tank so che me ne devo andare attenzione occhio minchia che bello quando piovono i fulmini a grande distanza guarda 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 porca miseria porca miseria che fulmine ho tirato comunque hanno imparato un po a spostarsi tonk forse è un po esagerato minchia il tuo planner è 10-5 ma sta incazzato sto shane guardate quanto è affidato guardate quanto cazzi danno faccio di passiva con tutto l'ap che ho mi serve un altro po di soldi per il drabadon occhio pensa penso a sto poraccio che spettacolo quando arriva il fulmine e non se ne accorgono abbiamo i soldi del rabadon molto bene minchia ragazzi è finita adesso è finita è finita è finita 690 di ap la me fa 750 danni più il 15% della vita più il ludens più lo storm più lo scorce e la cometa molto bene c'è stato uno scambio culturale qua poteva andarsene tranquillamente ma vabbè flash oh c'è proprio entrato dentro al fulmine che cosa illegale ragazzi me ne vado vado ma immaginatevi se faccio una kill così meglio dei power devo farla ragazzi la kill del power ranger faccio la kill dei power ranger faccio la kill e poi prendo il teleport e scappo pensate che ridere mamma mia pensa a questi cazzo devo pensare che ogni 5 secondi cade un fulmine la nuvola di fantozzi gli ha tirato c'è qualcuno qui benissimo e doppio fulmine no uno due fulmine ff no wally one shot me with your e vero oh c'è ragazzi ma è veramente spettacolare questo pick me ne vado ciao è veramente spettacolare lascia in stare la mia anima grazie io voglio vedere il grafico dei danni che cazzo dice missato comunque ha un cooldown abbastanza altino sta spell e non è proprio facilissimo adeittare cioè di beccare il punto in cui sono distratti oh qui è bello vedete stanno stanno imparando poi ad oggi all'inizio prendevano tutte le spell ecco tra neurelion lui c'è entrato proprio non c'ha non c'ha minimamente pensato piove oh grazie shen come avrei fatto senza la tua ulti grazie grazie ok qualcuno l'ho beccato ultimo oggetto dire uno shadow flame così giusto per perché i danni non sono mai abbastanza ma mi sta ingaggiando forse forse la scossa l'ha un po' fulminato in tutti i sensi occhio mamma mia comunque la tragedia sta partita che roba finiamo la build ma non so in realtà tra questo e l'horizon cosa sia meglio questo costa di più quindi fa più danni vediamola così è vero con l'exel soul eh ma ci mettiamo troppo tempo hai ragione comunque sarebbe stato un altro fulmine molto bello a parte che hanno finito i miei alleati vabbè don't end please se ciò qui stanno con la schiuma alla bocca oh ragazzi mi sono sentito un po' sbagliato in questa partita l'ammetto però io non posso non dire che mi sono divertito e insomma onor lui coco sonic 23 no 100.000 danni non è durata troppo poco la partita poi io per esempio ho usato solo la E cioè il resto non me lo sono cagato beh beh ho fatto tanti danni come dire ho fatto indubbiamente tanti danni tanti 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 danni ragazzi tanti e non pochi madonna io non mi sono anche reso conto di essere 21-0 vabbè e non mi sono